Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono Liam da Chimera Gaming E io sono Peppe da Chimera Gaming E benvenuti in questo nuovo episodio della Vaxilla Episodio 11 Comunque, in questo episodio ci prepareremo per finalmente andare nel nether Me l'hai spoilerato, per andare nel nether, vabbè Per andare nel nether E io ho po' Peppe che fa lo bevo? Succo di Chorus e del land penso Il Chorus cos'era? Mi pare che era un frutto del land, del void Che fa lo bevo? L'ho bevuto Mi ha dato quella del minatore Che bello! Eccoti comunque, sta entrando nel server Sì Che bello! Mi ha dato... non mi ricordo il nome Miner Insomma il piccone in oro era Significa scavi più velocemente Comunque Comunque Io ho paura per andare nel nether Stavo dicendo Perchè Perchè I libri magici Grimorio basico Adoro Saranno scavi Il lingotto di netherite Aspetta 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 Com'è che si craftava? Ehm Ah come con le netherite Devi mettere l'oro però a posto dell'oro Devi mettere i lingotti di lapislazzulo Lapis Lapis Comunque Ehm Comunque 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 Io penso che la netherite sia potentissima Io ancora sto cercando di entrare Bene Aspetta che ti carica Perchè il computer è bello Adoro Ok ne ho fatti Ne ho fatti due Uno per me e uno per te Perfetto Non ha tre schermi però Posso farmi Posso farmi il piccone No 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 me lo faccio Non lo spreco E infatti io mi farei la spada Spada Io mi faccio la spada Quindi non mi puoi copiare Ok allora mi Pai dei diamanti Ho un'idea Sì anche molti Te ne ho messo uno nella tua cassa Ok un lingottino netherite Ehm Aspetta finisco di dire Fuoco Mi sento a bruciare Sono io Finisco di dire quello che stavo dicendo Un nether star a terra Era la mia mi pare Perlstone Posso craftare l'ender pearl Ender pearl No ender pearl L'ender pearl Vuoi l'accento in inglese? Te la faccio Ender pearl No non lo voglio l'accento in inglese British Cioè ma Grimorio avanzato 5 Grimorio avanzato 6 Grimorio avanzato 10 Cosa dovrebbe servire il Grimorio avanzato 5 Ma io ho il Grimorio ancestrale Forse il più potente Forse Ce n'era uno che faceva 50 i danni Il mio fa solo 20 Quindi probabilmente non è così potente Non penso Se troviamo il Grimorio Ma hanno dei poteri Sì Penso che ti danno cuori in più Usiamoli Grimorio avanzato 1 Posso craftare Mi servono però 4 libri magici a quanto ho capito E me li devo craftare Ne ho solo uno Ma i pergamini si possono craftare Non lo so Non mi ricordo bene Martello da guerra di lapislazzolo Non so cosa farmi con le enderite Perché ho questa qua in ore E poi ho delle stivalette in zinco Non è che è tanto buono Ecco ti sei entrato finalmente Oh mio dio Martello da guerra in enderite In enderite In enderite Che bello Buongiorno Sei là col tuo corno Preparato per suonare Sì Oggi farò un concerto con le zanzare Che ti rovino nel sonno E uno E due E un due tre quattro No non lo faccio mi serve Ma sei entrato? No ancora no Ma ti sta caricando al mele Perché io ti ho visto che ti sei mosso Sì perché se clicco i tasti della tastiera Anche se mi sta caricando mi muovo Che figata Comunque non è così scarso Come avevi detto il tuo computer Io dico Di come No tu di come Non so se sono indeciso di farmi il piccone Non lo so Quanto attacco dà? Sei Poco Ma in realtà è tanto perché di solito i piccoli diamanti faccio in quel attacco Vabbè ma Una in più Pep no mi servono i diamanti Ho un'idea bellissima Quale? Non te lo dico Posso indovinare? No perché so che c'è la zecchera di sicuro E io andovino lo stesso Ok Il martello da cuore nelle vite Perché nel primo episodio No no aspetta 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 Comunque ti ho lasciato quello Il lingotto Altri lingotto in la tua cassa Adesso tu mi spieghi Per bene Come fai a saperlo Allora per bene Una spiegazione come quello lì Del mio libro di scienze Ti spiego Allora Visto che siamo nella scuola insieme Ce l'ho uguale Quindi probabilmente Scuola ma non classe Sfortunatamente Voglio andare nella sua classe Lui vuole andare nella mia Vabbè lasciamo stare i problemi di scuola Parla Allora Nel primo episodio Avevo visto nella crafting table Cosa si poteva craftare Senza dirtelo Avevo visto nell'armature L'armature nelle rite Poi ho visto le armi C'erano il martello da guerra La cetta La spada Come armi Che fanno molto attacco E quella che fa più attacco E' il martello E l'hai capito Perchè tu sei intelligente Si Vatonage Oh C'ho questo libro Che ha trovato Ti parla La dimensione delle caverne Che spiega Come craftare i tomi E' tipo Un'enciclopedia Enciclopedia Vai Vatonage Comunque Allora Tu sei quello che vuoi Sempre Grimorio Si Ma Io Questi Grimorio Tu sai quanto tempo ci impiego Per farli Ma ti aiuto Allora Se mi vuoi proprio aiutare Comunque Veloce a caricare Porca miseria Se tu mi vuoi aiutare Cioè no Se tu mi vuoi proprio aiutare Devi grattarmi Devi grattarmi L'oltre tavolo di incantamenti E' così Ok Se proprio vuoi Tomi Se no niente Più il tavolo di incantamenti normale Ok Oh Nostro tempio mi pare L'abbiamo esplorato Tu ti hai materiali io te l'ho gratta No Tu devi prendere materiali e dove in caso l'ho fatto io Se non sbaglio servivo ossidiana, bottiglie di incantamento No bottiglie di incantamento, bottiglie con l'esperienza dentro quindi dovrai sprecare un po' di esperienza tua No Ogni bottiglia per essere riempiti fino all'orlo servono 5 Io intanto voglio shibu Vuoi shibu Shibu Shibainu Sì c'è il mattino comunque Peppi io ti aspetto però veloce perché Ma io mentre registro penso cosa stai Ad esempio Perché Minecraft Non facciamo la cosa gialla La Peppi Sì Non abbiamo la vescica Sono degli esseri fessi Sì Non fare caso alla mia risata molto brutta Vabbè Sembra che muoia che mi viene tipo un infarto anafilattico Vabbè 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 Sei entrato ma ciao Sì Vabbè 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 Ti prego ti prego ti prego Ti prego ti prego 1 2 3 4 Ho provato Vabbè 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 Grazie a tutti.